Partenza da Bergamo e arriva a Como. Sabato 8 ottobre arriva la 116esima edizione del Giro di Lombardia. In occasione dell'evento sportivo, in vista del passaggio sul territorio comasco, il comune e la polizia locale cittadina hanno diffuso le limitazioni viabilistiche. Alcune misure scatteranno già a partire dalla giornata di oggi, come il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in piazza Cavour. Dalle 8 di oggi giovedì 6 ottobre fino alle 23 di sabato 8 ottobre. La polizia locale ha inoltre diffuso il numero dedicato alle richieste di informazioni utili in vista della competizione sportiva. Da oggi infatti è attivo il numero 347 55 440 45. È possibile contattare il numero oggi e domani dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17 e ancora sabato dalle 9 alle 18. Per la giornata di sabato inoltre è stato convocato il centro operativo comunale per il coordinamento e la gestione dell'evento. Il divieto di transito sulle strade cittadine scatterà a partire dalle 14 di venerdì 7 ottobre alle 22 di sabato 8 ottobre e riguarderà via Fontana, via Caroli e la Corsia dei Bus di lungo l'Ario Trento Trieste e piazza Cavour. Lo stesso divieto sarà in vigore anche sabato dalle 3 alle 7 e ancora dalle 13 alle 23 su tutto lungo l'Ario Trento Trieste e piazza Cavour, lato lago. Per quanto riguarda infine il trasporto pubblico locale, SF Autolinea sul proprio sito ha comunicato le modifiche al servizio con tutti i dettagli delle corse soppresse o limitate. La storica S puffotti è stata convoltata Collectiva Potsi di lungo l'Ario Trento Trieste Al tornare il bark momento dove si può essere cresciuta Le gruppo di busto pubblico dell'Ario Trento Trieste e piazza Cavourà cgesamt va